Il 2 maggio a Venezia, ottava giornata del contributo di accesso che ha l'obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici. Registrati 15.077 paganti in calo rispetto al dato del giorno precedente. I codici emessi per gli esenti ospite in strutture ricettive sono stati 53.116, esenti perché residenti in Veneto o nella città metropolitana 3.047. Oggi la nona giornata in cui è previsto il contributo d'accesso. Per tutte le altre giornate in cui è previsto il pagamento del contributo d'accesso saranno attivi dei varchi fisici ai principali punti di accesso della città, distinti da varchi prioritari per residenti e lavoratori. Saranno presenti degli steward che verificheranno il QR code dei visitatori e saranno a disposizione per aiutare chi ne fosse sprovvisto a scaricare il titolo di accesso sul posto e pagare il contributo. Superati i varchi, qualora qualcuno fosse sprovvisto del contributo di accesso sarà multato dai verificatori che effettueranno controlli a campione. Grazie a tutti! Grazie a tutti.